ma ciao bambine ma come mai siete in costume perché oggi faremo il bagnetto con la bomba e che colore è questa bomba si è anche l'acqua proviamo dentro gli unicornini io dico che ci sarà questo qui quale? questo anche io lo dico questo qui vedete anche io Vanessa tu sei in tema col costume unicorno e io quello di Elsa e tu quello di Elsa allora spieghiamo tutto perché voi dite ci sono già dei unicorni perché noi avevamo già due bombe da bagno dove Anastasia ha trovato questa e io invece quella viola vedete perché infatti io qua c'è scritto color su violet or pink che vuol dire colore viola o vediamo che c'era il mio dito che vuol dire colore viola o rosa ok dai Ani mettiamola dentro e vediamo guarda cadere per terra quale splendore diventa quest'acqua intanto l'acqua scorre vai metti giù wow che meraviglia e che profumo ha questo sempre l'odore di popcorn al forno io non mi lavo amare i capelli tu non ti lavi i capelli vero? si mi lavo ah vuoi lavare i capelli anche tu? benissimo ecco qui pop corn aroma che non so cosa vuol dire forse aroma l'odore si si abbiamo quello che avevamo detto noi non ha ricordato quindi ne avete tre diversi adesso si dove vai? questo l'ho trovato io e questo Nostalgia e questo tutte e due allora dobbiamo comparmi il bello quello col cuorecino allora a che punto stiamo con l'acqua? è bollente è ancora molto bollente è perchè lì sta scoprendo l'acqua fredda che bello sei già dentro tu signorina? si e io ti faccio brava casinista mi piace il mio costume? si che mi piace il tuo costume arrivano le stile lettee a fare cannetto ok ci siamo quindi? bimbe è stranissimo bimbe è stranissimo non so perchè stranissimo andare in acqua con il costume come va bimbe? benissimo 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 ma non ci sono rilassati? vanessa si sta già rilassando ti cav��no? laviamo i capelli? Love Ooh si laviamo i capelli Annie? dopo stasera te li laverai da sole ah te li lava Vanessa no ok da sola da sola facciamo vedere i nostri amici che sei brava a lavarli da sola vediamo una gara chi sta più sull'acqua 3, 2, 1 è così che si fanno le gare quindi sali l'una e scende l'altra ci ho capito niente io che ha vinto la fine? e perché? la sirena ha vinto guardate la gara perché quando noi un giorno avevamo è una stagia facciamo il gioco che dobbiamo guarda che adesso la metto via allora adesso ci mettiamo un po' d'acqua in bocca la mamma ci fa rispettare adesso non ci metteremo l'acqua in bocca e la mamma ci dovrà fare ridere e chi sputta prima l'acqua perde guardate i volti guardate i dati a voi guardate i dati a noi guardate i dati a voi guardate i dati a via andate la broca in coca uff ha braccia la copia in mezza la citizen Ochie questa è la mamma un braccia con i dati allora la prima sfida la persani eh vediamo adesso ancora ma allora ancora hai perso ma allora Nastasia ma con te è inutile giocare abbiamo inventato un gioco e dobbiamo nascondere questi intanto tu sta già anche in un po' l'acqua in bucchia quindi facciamo casa per vedere chi ha iniziato a fare nascondere a un minuto piaccia ta, sa, su, kat, po, pizzo, sa, si boh Anastasia le è partita la ridarola sa, su, kat, aia dai Ahi! S'ha sucata la forbice 1, 2, 3, 4 Ho perso una stadia quindi vanno a scendere Girasì, vabbè intanto lei beve Quindi ragazzi Puoi fare? Vai, non è più Non è di qua, è di qua Vero, mamma? L'hai trovata subito Beh, non so il perché Dai, Ani, adesso lo nascondi tu Perché dopo ci dobbiamo lavare i capelli Altrimenti le mannine diventano tutte rangrinzite Dai Io non ce ne ho le rangrinzi Ani, dai, nascondilo Ma le guarda? Sì Allora Dov'è ragazzi? Non so Ok, benissimo Adesso come faccio a prenderlo? Cioè, allora L'hai visto, dai L'importante è che tu l'abbia visto Ok, bimbe Bisogna fare il lavaggio alla testa Aspetta, prima del lavaggio L'ultimo appiglio No, amore Bisogna lavarsi adesso Perché sta diventando tardi Ok, perfetto Però un'idea Cioè, anche questa sarà una challenge Lavarsi i capelli Perché? Mi laverai i capelli Anastasia Anastasia mi li laverai Quindi sarà un casino Perché Anastasia lo sa lavare i capelli Quindi vediamo che cosa succederà E poi dopo io le puoi pestilare i capelli a me E poi dopo io le puoi pestilare i capelli a me Le puoi pestilare le capelli a me Ok Anche la faccia Vediamo chi piange meno Avete, ok? Allora, giro questo Ok Cominciamo a far scendere l'acqua Mi metti quanto vuole lo pestilare? Non riesci? E io ce la faccio Dall'altra parte, bimbe Ah, ecco perché è così difficile No, tu lo rompi, guarda Lo faccio io Ok Quindi adesso l'acqua se ne andrà piano piano Mi raccomando Ecco vabbè Non piangere eh No, non piangere Un attimo Ok Vai su Su Stai giù No Che bello Già ti ho messo un po' di sapore Perché è assogliato Le ande io Stai giù Ok Allora Mi prendo i sabuni Sabuni Scusa Scusa Sabuni Mi dai che non lo lascio chiamare? E fa buone la pavola Lei si chiama Lei si chiama Fa così No Togli No perché Allora Ti sto prendendo Wow Wow Me lo dici Ma lo dici Lo mettere lei Ah Valessa Bravissima Questo Togli orecchi Molto bene Allora Mi ascolti No guarda Ani però devi guardare in su Perché se no la pancetta è qui Sai che è una storia La pancetta Ma si Questa Rana sta crescendo È stata brava È riuscita a farla crescere Ma pure lei mi ha regalotto Tanti ragazzi Perché sono stata brava A cuore Amore Mi ha mangiato Mi ha mangiato Mi ha mangiato Pochissimi Ma non è vera Ti sta lavando i capelli Guarda Vediamo i capelli di Ani Mamma mia come sono lunghi Ok Lavaggio Ani guarda in su adesso Mi lavo le bracciole Su 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 Che buono Adè Quanti capelli Sono tanti Vediamo dove li arrivano Da bagnati Qui Qui Li arrivano qua Sì sono lunghissimi Li voglio fare crescere Li voglio Gialli Come la principessa Ah sì Ti vuoi tingere i capelli di giallo Sì Sì Quanto hai vent'anni Vent'anni Se non mi lavo io le mani Anastasia non sarà Sarà sempre con il sapone E a voi Che costume vi mettete Quando andate a mare In piscina O usate la doccia O fate il bagnetto Brava Vanessa Ok E Anastasia È stata lavata Adesso sto fermando Ok Ma si è giusto Non è stato l'acqua Può usare lo stesso Che ha usato l'acqua Poco eh La prima è di mettere un po' L'acqua sopra Ok Mi raccomando L'acqua deve essere tiepi Dani Prima la provi tu Con le tue manine Anzi Vane Trovala tu Così va a sapere Quanto Ok va bene Secondo me Li farà la dolce A me Farà la dolce Ok Devo mettere il sapone No Prima io li fanni bene bene Ani Anche di là Cos'è caduto Niente Mamma qui Ani Ani anche dall'altra parte Ma vai su Mamma mia Ho paura Si sta avvicinando a me Ho tanta paura Ani guarda che il dolcino Non deve rivolgerti verso di me È bravo Mi sono bagnati Mi sento bagnati Cos'è Mi senti bagnati Cioè io sono bagnata Cioè I capelli Anche Già Ecco dai Che disatto Ok Ani Io direi che puoi insaporarla Chiudi 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 Ok Non vedo più Asciugano Ok Puoi anche non farlo cadere per terra Ti va Mi asciugano Si A me Ho po' Perché io ho tanti capelli Guarda Guarda Si Guarda Ho giù la schiena Cos'è Ti è caduto Sotto il sapore Sulla schiena Ani Allora Non è io Grazie Io te lo faccio Voi dietro Ma Ci sono Ci sono Ci sono Che si chiama Vorrei avere i capelli Tu Voi 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 Fai finta Che questa sono io E fai finta Che io sono quella Che lava i capelli Che sono Anastasia Aiuto Salvatemi Aiuto Aiuto Perfetto Ti sta facendo per male No Però Cioè Io Stavo lavando i capelli ad Anastasia Già avevo fatto questa trocca Cioè Ani Acqua Io sempre Io sempre Quando faccio il bagnetto O faccio la dos Quando ecco fuori Ho sempre Perdo E beh Dai dai Sciascola Dai Sciacqua Vanessa Aiuto Vai Ani Aspetta Ani non devi andare dove non c'è il salone Eh Lei mi ha lavato la testa a metà Anastasia di fronte a te ci sono io Quindi il getto dell'acqua non devi rivolgerlo così Scusa Io mi squaro Ho i capelli più ricci Come beh Eh sì Come li devo adere Ricci Magari A me piacciono un sacco i capelli ricci A me li piacciono così Fai che gli Non posso aprire gli occhi Me lo giuro Vai Ani Su Passa la manina Che tanto guarda Che poi Una manina Ma qui Dove non ci sono i capelli Aiuto 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 Li sta lavando Li sta lavando Dico l'autoraggio come lava le macchie No 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 niente cosa Bobba Ok bagnetto finito Vi è piaciuto il bagnetto? Sì Possiamo fare anche un altro pezzo dove mi asciuga i capelli anch'io e dove mi pettina Va bene iniziamo a spogliarci asciugarci il corpicino mettiamo il pigiamino che dite? E dopo dopo torniamo in bagno che ci vestiamo sui gampi in terra poi mi asciuga i capelli a fare che mi bruci anch'io la brucio e poi mi pettina meglio Aspettate asciugare i capelli sta qui mi brucerà la testa No 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 i capelli sta qui Ma lei lo sai che mi devi buttare anche in braccio di là? Si No una principessa questo pezzo E mi da gli cigari Quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto cosa aspettate? Iscrivetevi al canzone Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Ah aspettate Mettete un emoji di cosa possiamo mettere? La buon provagno C'è se c'è Una corotta Anzi no Un ciuppa ciuppa Sì sì Non c'entra niente con Vanno le parole colorate Per altri commenti mettete Un ciuppa 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 Andiamo a sciugarci? Sì Sono Gurreni Brava bimbe vi siete già vestite Anastasia cosa stai facendo? Niente guarda Ok inizia la parte più Sì ancora challenge perché adesso chi dice non so aia 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 qualcosa del genere Chi dice più aia perde la challenge Ok o anche qualcos'altro che però come se ti sta facendo infastidire Quindi iniziamo Anni mi raccomando eh Non dire le frasi eh No Ok Tanto non riuscirai a toglierlo Anastasia C'è un tappo dentro la testa dell'unicorno 3 ne ha già detto i 3 aia 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 siamo 3 al 0 aia 4 ah no la traga dai va bene se non districhiamo i nodi i tuoi capelli dovranno essere tagliati lo sai vero mi raccomando vanni perdi eh perchè io non ne dirà neanche una eh e io devi tirirò ti ritirirò ti ritiri tu vediamo vanni però chi stai fermaci ok dai guardate quanti capelli lunghi quanti capelli lunghi i tortellini in brodo e voi ragazzi scrivete nei commenti che cosa cosa mangi non so pranzo o cena quando voi state guardando questo video ovviamente se lo guardate mai si magari devo una colazione prima di andare a scuola e voi cosa mangiate a colazione se siete a colazione non so però io ci sono usciti ok Ani dai vabbè dopo con la pompa ci posso vabbè dopo con la pompa ci trovo dai vai Ani non farò neanche una parola con la A ok ma sapete che quasi tutti i nomi femminili finissero per A è già Anastasia, Vanessa, Nuna, Alice Vane hai detto non farà il nome per la A hai detto A quindi hai detto la prima A anche te vero Ani? hai detto la A si quindi siamo 5 a 1 no no non farà scusa c'è stato un accenno di A no eh ho sentito e ti vedo ciao mi sono bagnata è solo acqua tranquilla pensate quando mi quando tre due quando mi asciugherai i capelli pensate Anastasia Anastasia da mi stai spazio devi farne del male a questo ok bimbe facciamo una cosa stiamo degenerando asciughiamo i capelli va bene? ti asio La stagione è la stagione di una stagione. Questa è la stagione? allora ragazze bambine il video finisce qua quindi se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video lo rifaccio se non l'avete capito iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video con il forno al centro quindi ciao per le sorelle più pazze del romanzo ciao 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 ciao